Motorola Atrix per ora in vendita solo negli Stati Uniti, dovrebbe arrivare anche in Europa, ovviamente sistema operativo Android, è un telefono con dual core, quindi dovrebbe essere molto performante, firmware 2.2.1 sicuramente verrà aggiornato, moto blur come interfaccia e web browser con full flash come dicono le specifiche tecniche, un display davvero molto interessante per quanto riguarda la risoluzione e la visibilità, ci sembra molto molto risoluto. Vediamo il posteriore con questa cover effetto carbonio, questo dovrebbe essere un lettore di impronte digitali qua in alto, l'esemplare qui in esposizione non è reattivissimo, ha qualche leggero delay, speriamo che con la versione definitiva che uscirà in Europa sistemino questi piccoli delay. È vero che l'interfaccia moto blur assolutamente non aiuta alla velocità del sistema, ma qua ci pare che per un dual core il telefono sia veramente un pochino troppo lento.